Buongiorno a tutti, sono Mirko Chienesi, vi do il benvenuto a nome di Ulm Communication School a questo nuovo ciclo di webinar dedicato ai Master Ulm per l'anno accademico 2021-2022. Fra poco vi presenteremo il Master Universitario in Marketing e Comunicazione dello Sport, giunto alla sua quinta edizione. A raccontarlo per noi ci sono il professor Vincenzo Russo, direttore scientifico del Master, il dottore Enrico Cecchetti, coordinatore didattico, il dottor Pierluigi Pardo del Comitato Scientifico che a breve ci raggiungerà, la dottoressa Monica Mazzola, tutor di processo e primo punto di riferimento degli studenti e la dottoressa poi Marta Poletti, alumna della terza edizione del Master. Prima di cominciare vi chiedo la cortesia di silenziare i microfoni e di spegnere le webcam. Ricordo infine che al termine della presentazione ci sarà un momento dedicato alle vostre domande che potrete porre direttamente in chat, aprendo la chat appunto dalla barra di funzione e adesso diamo direttamente la parola ai relatori per il webinar. Buona presentazione. Bene, buongiorno, sono Vincenzo Russo, sono il direttore di questo di questo Master. Io è quello appunto di descrivere un po' qual è la logica che sta dietro l'organizzazione di questo Master, un Master che vede come sempre il coinvolgimento del mondo accademico ma soprattutto del mondo professionale. Ecco perché il Master che ormai è giunto alla quinta edizione, tra l'altro con risultati estremamente interessanti in tutti questi anni, sia di partecipazione di aziende al nostro Master e poi con Enrico Cecchetti e con Pierluigi Pardo faremo appunto una riflessione sul coinvolgimento delle aziende, sia per l'effetto che ha avuto sul placement diciamo di questi, dei nostri studenti all'interno appunto delle aziende. È un Master che è stato pensato e poi modificato perché è chiaro che più tempo passa, più i Master si raffinano, diventano più puntuali nel coinvolgimento dei docenti che riescono in qualche modo a trasmettere la loro professionalità in maniera appunto efficace e ovviamente anche il piano di coinvolgimento aziendale di volta in volta si raffina e si migliora. Partiamo dal comitato scientifico, un comitato scientifico che ha sempre visto il coinvolgimento, ripeto, di più professionisti che del mondo accademico, personaggi del mondo accademico. Questo non significa che la parte accademica e teorica non sia importante, significa che la parte teorica lascia spazio ai professionisti che esistono, dando poi una chiave di lettura organizzata e sistematizzata di quello che teoricamente poi supporta le progettualità che vengono discusse all'interno del nostro Master. I professionisti che sono coinvolti direte appunto visivamente in questa immagine, ma andiamo da giornalisti a esperti diciamo del campo del marketing dello sport, cito Michele Ciccarese, che è il direttore commerciale marketing di Lega Serie A, abbiamo anche Pierluigi Pardo che dovrebbe arrivare a momenti se già non è in linea, ma che è uno dei personaggi televisivi, giornalistici più importanti appunto su questa tematica con cui ci confrontiamo continuamente e poter cercare di migliorare, ripeto, e creare le migliori condizioni per poter apprendere. I Master servono per imparare a fare delle cose. Ovviamente nel ultimo rispetto delle competenze teoriche, delle competenze diciamo accademiche, però permettono in qualche modo di imparare a lavorare. Ecco perché il nostro Master vede non solo il coinvolgimento di personaggi come quelli appunto che vi ho citato, ma abbiamo anche Giorgio Teruzzi, altro giornalista praticamente importante, Paolo Tioducci che per tanti anni è stato uno dei responsabili per conto di una grossa azienda di telecomunicazioni, tutto l'aspetto degli eventi. Oggi ha un alto ruolo, ma porta con sé un connotato e un'esperienza consolidata di gestione di eventi. Marco Riva che tra l'altro è stato appunto anche un nostro studente, presidente del Comitato regionale del CONI Lombardia. Alessandro Rimi, non solo un ex studente, scusate giornalista e commentatore televisivo, in poche parole abbiamo coinvolto un gruppo di referenti per poter costruire un Master che possa essere realmente utile a chi partecipa a attivamento. Ovviamente voi avrete a che fare, chi parteciperà a questo Master ha a che fare appunto con un coordinamento che ha il compito di integrare docenti, aziende con quello appunto che è la vita quotidiana appunto del Master. Quali sono gli sbocchi professionali su cui ci muoviamo? Ovviamente nel momento in cui arriverà i nostri ospiti, oggi abbiamo dicevo anche, oltre che persone che hanno già fatto il Master e che si trovano ad avere avuto delle esperienze consolidate, anche qualcuno rappresentante del Comitato scientifico. quindi quando arriva Pier segnalatemi perché io non vedo i messaggi sulla chat, visto che sono in presentazione. Ciao Pier, faccio due parole sui sbocchi professionali e poi ti lascio la parola a te e anche a Enrico per fare un quadro della situazione non solo del Master ma anche di questo mercato che è un mercato che inevitabilmente sta ovviamente cambiando e si sta implementando in alcune aree per quello che stiamo vivendo sperando appunto di poter tornare quanto prima in una condizione normale come appunto quelle che stiamo sperando di avere. Comunque in ogni caso gli sbocchi professionali sono quelli che trovate in questa slide, diciamo che lavoriamo tanto per preparare i partecipanti di questo Master a essere impegnati nell'attività di pubblica relazione per le aziende dello sport, non solo per eventuali e singoli professionisti del mondo dello sport ma per le aziende che lavorano per lo sport e con lo sport. Ovviamente l'organizzatore di eventi che è un elemento importante, non solo evento in presenza che in questo periodo è stato abbastanza sacrificato ma eventi anche digitali, non è un caso che questo Master ha aperto un grosso filone grazie ad alcuni rappresentanti del Comito Scientifico come Stefano Cossi al tutto il mondo dell'e sport su cui faremo poi un breve approfondimento. Ovviamente altro tema fondamentale è avere le competenze nel campo del social media marketing applicato al mondo dello sport e quindi anche questo è uno sbocco occupazionale estremamente interessante come interessanti sono i classici ruoli di product e brand manager o retail manager. Diciamo che la logica è quella di dedicare un intero Master a tutto ciò che è comunicazione e marketing. Ci sono tanti Master in giro per l'Italia, molti riportano anche la dicitura management dello sport. In realtà noi abbiamo voluto, ma questo è il core business dell'Università Iurma che è l'università più importante in Italia per la comunicazione, dedicarci esclusivamente alla comunicazione e al marketing e devo confessare che nonostante il Master preveda 500 ore di attività didattica, molte volte ci troviamo a dovere sacrificare degli argomenti perché i temi legati alla comunicazione e al marketing sono talmente articolati e complessi, li affrontiamo in maniera talmente approfondita che non abbiamo poi il tempo di poter coprire tutto quello che vorremmo. Questo fa capire quanto è fortemente professionalizzante questo Master, non solo per il numero di ore dedicate ai singoli moduli che poi vedremo con calma dopo l'intervento di chi fa parte del comitato scientifico, ma anche per la logica con cui è stato pensato il Master. Abbiamo in questi anni a trasformare i nostri Master in veri e propri laboratori professionalizzanti. Nel primo giorno noi chiediamo di dividere l'Aula in piccoli gruppi, ogni gruppo diventa una piccola agenzia di comunicazione dove c'è in maniera integrata la presenza e in diverse competenze, chi scrive bene, chi ha più competenze sui social, chi ha più competenze con le pubbliche relazioni in maniera tale che tutte le volte che le aziende vengono a raccontarci del loro case history, estremamente interessante e importante, mettono in condizione ogni singolo gruppo di lavoro nell'affrontare una problematica che quelle aziende in quel particolar modo sta affrontando. Questo significa che i piccoli gruppi di lavoro verranno messi in una sala competizione tra di loro per cercare di risolvere i problemi, diventa un modo per poter imparare la professione. Ovviamente in questo caso abbiamo non solo le lezioni, non solo le case history, ma abbiamo anche molti project work che si sviluppano durante l'arco delle attività didattica ed è un modo per, come dire, sporcarsi le mani. Molte volte questi progetti sono tanti, sono numerosi, sono giocati nella logica dell'urgenza e con poche risorse. Ecco, queste sono le classiche condizioni che poi troviamo nel mondo del lavoro. Lavorare nell'urgenza, lavorare in sovrapposizione con poco tempo e poche risorse è quello che spesso si fa dentro il mondo del lavoro, delle organizzazioni per cui allenarci, allenarvi a lavorare in questa logica sicuramente aiuta ad affrontare meglio il mondo del lavoro. Un mondo del lavoro che chi meglio di Pierluigi Pardo può conoscere, per cui Pier ti lascio la parola per la tua introduzione. Eccoci, eccoci qua. Già, non sei riusciti a scendere la telecamera, mi sentite? Telecamera e microfono. Perfettamente. Una buona partenza. Ma hai detto tante cose interessanti in questi minuti, onestamente. Sta diventando un classico questo master, di anno in anno, e devo dire che mi sta dando dal punto di vista personale una soddisfazione enorme, perché ho visto tante persone che hanno cominciato a lavorare, che lo hanno fatto bene, ho visto che quell'intuizione che avevamo avuto, cioè che questo fosse un master capace di legarsi molto bene alle esigenze del mondo del lavoro, anche in un periodo, soprattutto negli ultimi anni ovviamente, che è oggettivamente molto difficile, per tutto quello che ben conosciamo. Insomma, questo mi dà grande energia, grande motivazione. Hai detto bene, cioè noi cerchiamo di partire da, insomma, il metodo è intuitivo più che deluttivo. Cerchiamo di partire dalle esperienze, dalle case history e da lì ricavare linee guida generali, che poi possono essere teorizzate. Certamente una teorizzazione di carattere accademico è importante in certi momenti per focalizzare, per fissare determinati temi e determinate procedure, e quindi poter essere riapplicati su una scala più larga. Però il nostro punto di partenza è un punto di partenza essenzialmente esperienziale, quindi legato a case history, legato a storie, legato a problemi risolti, legato ad approcci diversi, legato a una veramente presenza di esperienze molto diverse, nel senso che poi alla fine, e questo è il mio vecchio cavallo di battaglia, quando Enrico è venuto da me la prima volta e mi ha detto facciamo una cosa sul giornalismo sportivo, io ho un grande effetto e grande amore per il giornalismo sportivo, però quello che ho detto da subito sia a Vincenzo che a tutti e che ritengo che questo sia un settore bello, bellissimo, però onestamente molto saturo, in cui quello del giornalismo sportivo, nel quale c'è una sproporzione tra domanda e offerta di lavoro, nel quale è molto difficile secondo me riuscire a capire chi realmente ha voglia di costruirsi un percorso lungo, fatto anche di fatica, fatto anche di un lavoro un po' oscuro e chi evidentemente invece è attratto legittimamente allo stesso sogno che avevo io da bambino, dal fatto di diventare il conduttore di un programma televisivo o un telecronista o un radiocronista di una partita di Champions League, è una cosa bellissima della quale io ringrazio Dio, però non è semplicissimo pensare di poter portare ogni anno 20, 50, 100 persone a poter diventare telecronisti di una partita di Champions League, perché purtroppo i posti non ci sono, le partite sono quelle, le televisioni sono quelle e quindi è molto complicato. Invece questo master che facciamo da anni identifica secondo me una polietricità e una presenza di diversi ambiti professionali che sono tutti interessanti e oltretutto sono in crescita e nonostante le difficoltà degli ultimi anni e mezzo danno la sensazione di essere dei settori nei quali ancora ci sarà da lavorare, anzi dove forse addirittura le difficoltà di quest'ultimo anno e mezzo hanno aumentato quell'esigenza di professionalità, di fantasia, di creatività, di efficienza che il mondo di oggi impone, perché è chiaro che tutte le società sportive e quindi poi a cascata gli stessi atleti, tutti gli stakeholder del mondo dello sport si rendono conto in questo momento di vedere sempre qualcosa di molto prezioso che stanno maleggiando, perché lo sport tira a ogni livello dal punto di vista mediatico, dal punto di vista della passione, dal punto di vista del business, insomma è sicuramente carne calda che funziona, che ha un suo valore economico, commerciale e ovviamente anche ideale, culturale enorme, che non accenna minimamente a diminuire, ma al tempo stesso è chiaro che le difficoltà degli ultimi anni e mezzo comportano un ripensamento di tanti aspetti, il botteghino che non c'è più, i sponsor che chiedono degli sconti, la necessità di dover inventare nuove forme di posizione dell'evento sportivo, ovviamente con la speranza che poi da qui a qualche mese tutto sia alle spalle. Quindi questo è un elemento che sicuramente ha condizionato l'ultimo anno e mezzo, ha condizionato le ultime due edizioni del Master, ma non credo che poi abbia condizionato più di tanto invece il percorso dei nostri studenti. E ripeto, quello che mi piace è l'approccio, l'approccio induttivo, partire dalle case history, il contatto che esiste con le aziende e soprattutto la varietà di percorsi professionali che questo tipo di Master può regalare. In questi anni ho avuto degli studenti che hanno cominciato dei percorsi che non si aspettavano di cominciare, che hanno scoperto degli aspetti di questo variegato mondo dello sport che non si aspettavano di trovare, che hanno cominciato magari da una parte per fare una cosa e sono finiti da un'altra per farne un'altra. Questo aspetto qui mi sembra assolutamente importante. Riassumendo, gli sbocchi professionali sono tanti, sono infiniti e sono in continua evoluzione. Tutto il discorso della comunicazione, la comunicazione delle società sportive, la comunicazione degli enti istituzionali che esistono nel mondo dello sport, la comunicazione di chi organizza i grandi eventi, la comunicazione degli stessi atleti con un focus particolare su tutta l'area social network, che sappiamo è sempre più importante in quest'epoca di disintermediazione. Insomma, uno dei passaggi più classici del Master è quando i ragazzi si rendono conto di come sia cambiato il modo di comunicare degli atleti e delle società sportive da qualche anno a questa parte e quindi dalle testate di tipo tradizionale, che comunque esistono, che comunque hanno una loro importanza, a tutta una serie di realtà nuove, di blogger, di opinion leaders, di soggetti che qualche anno fa non erano nemmeno nati, non si potevano neanche immaginare. Tutto il mondo legato al marketing, il rapporto anche delle aziende che non si occupano strettamente di sport, ma che hanno aperto le centralizzazioni e le partner si costituiscono legami con il mondo dello sport. Ovviamente l'ho detto, le società sportive, ma anche le federazioni che hanno ovviamente un loro ruolo più istituzionale ma molto importante. Chi organizza gli eventi, che sappiamo è un settore a parte, che merita una trattazione quasi a parte, perché poi è un tipo di mercato che abbraccia non solo il mondo dello sport, ma in generale il mondo dell'entertainment. Gli sports, che sono una realtà sempre più importante, sempre più emergente, che ha avuto un boost, ha avuto un'accelerazione improvvisa proprio per il lockdown, perché molta più gente banalmente gioca ai giochi elettronici e molta più gente guarda e si appassiona ai giochi elettronici. Le forme di comunicazione che si legano al mondo dello sport, quindi tutto il mondo di Twitter, tutto il mondo di YouTube, è veramente un orizzonte enorme, perché lo sport ha questa forza incredibile, di abbracciare tutto. Poi ci sono anche delle componenti, se vogliamo, più tradizionali. L'avete visto, c'è Giorgio Derruzzi nel nostro comitato scientifico. C'è anche tutto un tema legato allo storytelling, perché comunque poi lo sport, e questo può riguardare alcuni dei ragazzi del nostro master, può anche essere raccontato, merita di essere raccontato. È la passione della mia vita raccontare lo sport, quindi figuriamoci se io posso fare lo snob nei confronti di questo aspetto. Però mi piace, mi piaceva, e l'ho detto da subito a Enrico e a Vincenzo che fosse uno degli aspetti che in qualche modo rappresentano un elemento che si può legare agli altri, non l'unico, perché io purtroppo non credo dalla possibilità, dal punto di vista pratico, che oggi il giornalismo sportivo in senso tradizionale possa essere un serbatoio così ampio. Però chiaramente poi la capacità di comunicare di un giornalista, di un detto stampa, di un atleta, di una società sportiva, la comunicazione, lo Yulm è la patria della comunicazione, è essenziale. Quindi anche tutto lo storytelling lento al mondo del calcio e dello sport in generale è un tema assolutamente importante. Per cui insomma, il master è un master secondo me che ha degli aspetti molto figli, non voglio fare il venditore con voi, però io penso che sia così. Penso che sia un master un po' lineback, direbbero gli inglesi, cioè un master dove nessuno se la dita troppo, nel quale esiste il tu, nel quale le persone che arrivano sono essenzialmente degli amici e portano delle esperienze e si crea un legame con le aziende, con i vari stakeholder molto importanti. Alcuni sono veramente storici, con aziende che ogni anno sono quasi loro che vengono a chiederci, ma quest'anno che prendiamo dal vostro master? Quindi insomma, c'è un rapporto molto easy, molto informale, e questo mi piace, molto disintermediato e molto vario, che offre agli studenti la possibilità all'interno del percorso di essere magari attratti più da una chiave di marketing, piuttosto che di comunicazione, dalla comunicazione di un singolo atleta, piuttosto che dalla comunicazione delle società sportive, da un lavoro di eventuali società partner che si occupano di abbigliamento sportivo, piuttosto che di tecnologia, ma che vogliono legarsi al mondo dello sport, quindi è molto ampio, offre secondo me un'idea chiara, precisa, e rispetta molto poi la libertà dei singoli studenti di poter all'interno di questa gamma molto ampia di opportunità, di andare magari a scoprire quello che è l'aspetto che piace di più, che interessa di più e che poi dà più energia e quindi più passione per il proprio lavoro. Dicevi proprio l'ampiezza delle opportunità, perché da una parte e dall'altra, come giustamente ti ho voluto sottolineare, è la fattissima professionalizzazione in un campo che è appunto molto ampio, dal marketing alla comunicazione, guardando non solo l'azienda che fa sport, ma quella che lavora con il mondo sportivo in maniera diretta o indiretta. Ovviamente questo ambiente così, come dire, più impegnato dal punto di vista professionale e meno, come dire, accademico, nel senso classico del termine, è determinato anche dalla possibilità di fare molti lavori e molti project work, ovviamente con un coordinamento di Enrico Sciacchetti a cui do la parola, ma anche di un supporto da parte di Monica Mazzola, che come tutor aiuta a far funzionare meglio il master. Enrico, lavori con le aziende e il project work? Beh, diciamo, intanto per usare un linguaggio un po' sportivo siamo un team, quindi diciamo che con Monica il lavoro è veramente in coppia, mi piace pensare che siamo i due gemellini del gol. Ma come diceva Pier, correttamente siamo arrivati a un punto virtuoso, nel senso che è cosa di pochi giorni fa essere ricontattati da aziende di calcio, di serie A, squadre di calcio, che ci chiedono di formulare un accordo per partecipare al master della nuova edizione e che hanno già avuto modo di fare dei project work con noi, significa in primis che comunque come diceva Pier c'è un'evoluzione, un'evoluzione anche legata appunto alla tecnologia e ai social media, motivo per il quale hanno bisogno di avere veramente tante volte degli stimoli creativi forti, grazie un po' alla progettualità studiata insieme a tutto il team, ma anche con Pier ne abbiamo parlato tanto, queste agenzie che non sono tanto simulate perché poi si danno un nome, un logo, un payoff costituite dall'organico della classe, poi presentano dei progetti che sono progetti reali, non dimentichiamolo, quest'anno abbiamo fatto progetti con Lega Serie A, un progetto veramente importante, pensate che la Lega Serie A non è soltanto quel bacino che accoglie i finanziamenti dei diritti sportivi, dei diritti televisivi scusate, e li distribuisce, in realtà la Lega Serie A sta facendo un lavoro di branding su se stessa fortissimo e ha un'utenza che parla di, parliamo di 8-9 milioni di utenti tra Facebook, Instagram e YouTube, i nostri ragazzi hanno fatto un progetto per Lega Serie A, oltre a quello mi piace ricordare un progetto tra i più belli da un punto di vista di marketing e comunicazione perché quella realtà è una realtà sempre molto sexy con Red Bull, per finire con un progetto internazionale, noi cerchiamo sempre di stare al passo non solo con i tempi ma cercare di testare un attimino le skill dei nostri studenti, l'inglese ovviamente è richiesto e facciamo un progetto con Ex Dubai, Ex Dubai è una realtà di sport e turismo appunto della città di Dubai che raccoglie dei progetti e degli eventi di portata mondiale con Jawad Koramifar abbiamo iniziato dal primo anno a fare delle progettualità che anche quest'anno ha avuto luogo e ha avuto un estremo successo, quest'anno cito soltanto per dare un po' un'idea di chi ci, con chi abbiamo lavorato, con Inter, con Sassuolo, con Coca Cola, con Alessandro Benetton abbiamo affrontato i mondiali di sci che quest'anno hanno avuto purtroppo meno eco di quello che sarebbe stato il desiderato di tutti, è già stato importante averli fatti e qui butto lì uno stimolo anche a Pierre, mi immagino cosa diventerà il nostro Master da un punto di vista anche di attrattiva con l'arrivo poi delle Olimpiadi nel 2026 ma soprattutto con la Riders Cup che è tra poco, con il caro amico di Pierre che è sempre stato coinvolto durante questo Master. Assolutamente, sono due eventi chiave, mi pare che Milano Cortina stia lavorando molto bene, aveva cominciato a lavorare già subito anche in forme e modi molto originali anche sulla scelta dei loghi eccetera e sulla Rider c'è stato questo ritardo ovviamente dovuto alla pandemia ma insomma siamo on track e con Montali, Montali è stato nostro ospite, con la federazione abbiamo parlato quindi immagino anche l'anno prossimo avvicinandoci alla manifestazione avremo sicuramente un project working insieme. Esatto, a questo punto Vincenzo se sei d'accordo lascerei un secondo la parola visto che il link è con serie A perché una delle nostre studentesse della terza edizione, Marta Poletti, adesso fa parte dell'organico con lavori con Michele Ciccarese che è appunto membro del nostro comitato scientifico. Marta se vuoi raccontarci un po' la tua esperienza prego a te la parola. Sì, buongiorno a tutti, innanzitutto per me è un piacere essere qui perché il master è stato un percorso dal mio punto di vista davvero fantastico che mi ha permesso poi di entrare concretamente nel mondo del lavoro quindi è un piacere raccontarvi la mia esperienza. È stato sicuramente un percorso molto lungo, davvero appagante in cui si condividono tante cose che vanno anche al di fuori dell'aula. È un percorso ricco di emozioni e per quanto riguarda la nostra edizione che è stata la terza siamo sempre stati tutti uniti dalla passione per il mondo dello sport che ci ha sempre guidati verso l'obiettivo comune di imparare quanto più possibile e di cogliere quanto più possibile da tutti i professionisti che venivano a farci lezione e credo che davvero ci siano poche cose che ti arricchiscono come l'esperienza diretta raccontata da da professionisti di calibro come pier ma anche molti altri che condividono con voi la loro passione per il loro lavoro per il mondo dello sport facendoti anche un po capire che probabilmente quello che per noi all'inizio soltanto un sogno può poi diventare una concreta realtà. Io appunto come diceva Enrico ho iniziato a lavorare in Lega Serie A a inizio settembre e sono ancora lì. Lega Serie A appunto un partner fisso di questo master e Michele Ciccarese che è il direttore marketing e commerciale appunto della Lega Serie A anche nel comitato scientifico e sicuramente avrete modo di conoscerlo. Per quanto riguarda il master secondo me ti prepara davvero bene a entrare poi nel mondo del lavoro perché con tutti i project work che abbiamo fatto ti insegna a rispettare le scadenze, ti insegna a lavorare sotto pressione, ti insegna anche a lavorare in gruppo che non sempre è facile soprattutto quando magari hai a che fare con persone che sono molto diverse da te. Però è una cosa importante perché poi quando ti trovi davvero nel mondo del lavoro sono tutte cose fondamentali che ti permettono poi di crescere e di lavorare tutti per un obiettivo comune. Il Covid sicuramente in un primo momento probabilmente ci ha scoraggiati ma ci ha anche insegnato tanto perché oggi quasi tutte le aziende lavorano almeno parzialmente smart working. Noi in Lega Serie A siamo ormai smart da un mese fisso e adesso penso che torneremo in ufficio ma sempre tornandoci. Quindi comunque il master ci ha anche insegnato a lavorare a lavorare a distanza quindi come comunque continuare a lavorare con il massimo delle energie per raggiungere un obiettivo comune essendo sempre in contatto con i colleghi, con i nostri capi, con i nostri responsabili anche a distanza e probabilmente credo che tutti noi ci saremmo trovati un pochino più in difficoltà se non avessimo prima sperimentato questa cosa durante il master. Io personalmente ho sempre visto il master come il mezzo per raggiungere i miei sogni, per far diventare concreti tutti quelli che sono i miei obiettivi professionali e mi sento di dire dopo un anno che ci sto riuscendo e sono molto soddisfatta di questo. Quindi per me il master è stato davvero un viaggio fantastico e spero lo possa essere per tutti voi. Grazie Marta. Non vedo più la presentazione, non so se è prof russo ancora collegato. Sì sì ci sono, aspetta che condivido. Ecco diciamo che per conto riguardo all'organizzazione del master full time con attività didattica dalle lunedì al giovedì dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Ovviamente alla fine si prevede appunto uno stagio di 3-6 mesi, noi suggeriamo sempre i 6 mesi piuttosto che 3, così si entra all'interno di un'azienda e si ha la possibilità non solo di farsi conoscere ma anche di capire meglio come funziona in un contesto aziendale. Quindi suggeriamo sempre appunto i 6 mesi, ma generalmente tutti i nostri studenti hanno fatto sempre 6 mesi. Ovviamente questo è un master universitario quindi rilascia dei crediti formativi, dei CFU da poter spendere eventualmente per ulteriori prosegui in altri percorsi accademici. Ma il nostro master professionalizzante, come vi dicevo, che ha i moduli che voi avete probabilmente già visto online, sono finalizzati, sicuramente rilasciamo di CFU, ma ricordiamoci che è un master fortemente professionalizzante. Vediamo un attimo di scorrere velocemente quali sono i principali moduli e gli argomenti di questo del master e poi ci concentriamo sulle partnership. Ovviamente sui moduli sarà un po' veloce, è giusto per far capire qual è il senso, non approfondiamo ogni singolo modulo perché altrimenti non avremo il tempo di approfondire altri elementi importanti come le partnership aziendali. Ovviamente si parte con un modulo dedicato al sistema sportivo in generale e per capire un po' quali sono le dinamiche, quali sono appunto i trend principali, le dimensioni economiche del sistema sportivo, per poi entrare nel merito della comunicazione di massa e il mondo dello sport, quindi radio, tv, stampa e tutto ciò che ha a che fare con i canali massimediatici, quelli di eccellenza, quelli più noti, quelli più sfruttati in termini comunicativi. Ovviamente in questo mondo non si può non fare una riflessione opportuna riguardo agli aspetti legislativi. Gli aspetti legislativi e quelli finanziari. Ovviamente il quadro legislativo e finanziario è fondamentale sia all'innovazione che locale perché ci permette poi di capire cosa si può fare e cosa non si può fare in termini di comunicazione. Ci permette anche di apprendere che significa gestire un budget, anche perché, come dire, molte volte siano delle belle idee, ma se non si hanno le risorse per poterle realizzare, le belle idee non potranno mai camminare. E allora avere un approfondimento su come si fa un budget di una promozione, di un'attività, di un evento, di una soluzione di marketing, credo che sia estremamente fondamentale, anche per avere, come dire, non solo il principio del piacere che guida la progettazione, ma anche il principio della realtà che ne permette la sua realizzazione. Il modulo numero 4 è un modulo che ha a che fare prevalentemente con la comunicazione e le relazioni pubbliche, che significa la gestione dei network, gestione anche di un ambito che è abbastanza delicato, che ha a che fare appunto con l'ufficio stampa delle aziende. Quindi tutto il mondo delle relazioni pubbliche, ma ci sta anche tutto il marketing, sia nella sua declinazione più tradizionale, ma soprattutto nella sua declinazione social. Quindi tutto il digital viene appunto affrontato in questo ambito. Il quinto modulo è un modulo un po' più legato alla comunicazione pubblicitaria, al brand, al brand management e, come dire, ha l'obiettivo di portare in aula storie legate appunto a brand particolarmente famosi per capire quali sono le strategie, quali sono appunto le soluzioni migliori per poter fare un servizio alle aziende e promuovere un'azione home brand. Il modulo numero 6 richiama un tema caldo, che è appunto quello della responsabilità sociale, quella dell'etica. Il mondo dello sport è fortemente coinvolto sull'essere un punto di riferimento per gli altri, quindi risponde a delle regole, a delle leggi sull'etica estremamente importanti e fondamentali. Vi ricordo che il mondo dello sport guarda il mondo del no profit, così come il mondo del no profit si serve al mondo dello sport. Allora riuscire a lavorare nella dinamica di una giusta relazione, soprattutto tra contesti che hanno una forte responsabilità etica, credo che sia estremamente importante. Ecco perché abbiamo deciso di sviluppare tutto un modulo per affrontare questa tematica. Ovviamente non potevamo non comprendere un modulo dedicato agli eventi. Dal piano di comunicazione di un evento fino ad arrivare alla costruzione dell'esperienza, fino al post-evento, questo è un aspetto forestalmente importante. Gli eventi sono una delle declinazioni importanti dell'esperienza sportiva. Ovviamente abbiamo visto un cambiamento, comunque un'integrazione degli eventi digitali in questo ultimo periodo per ovvi motivi. Io credo che potremo avere l'occasione di valorizzare questa esperienza con tutto quello che stiamo facendo anche sul digitale. Torneremo a fare gli eventi in presenza, l'abbiamo visto in tanti altri paesi che hanno raggiunto una situazione di sicurezza per cui gli eventi torneranno, ma io credo che l'aver appreso come si può valorizzare il digitale per creare esperienze in quella che viene chiamata digital, cioè integrando la dimensione digitale con quella reale, credo che sarà la nuova sfida. È chiaro che quando ci sono nuove sfide, master come questi che sono finalizzati appunto a innovare e a rinnovare, non possono appunto che inserire all'interno del loro percorso dei punti di riferimento, delle riflessioni su questi aspetti. Il digital e l'e-sport, lo citava anche Pierluigi Pardo, è un ambito che si sta sviluppando ovviamente anche perché siamo rimasti chiusi in casa, quindi ci siamo attrezzati, ma devo dire che l'e-sport ha avuto anche un suo rilancio in questi ultimi anni, al di là della pandemia, impressionante. Ci sono dei paesi in cui questo ambito ha avuto un grandissimo sviluppo, ovviamente ha avuto un'ulteriore spinta, ma è un ambito di grandissima opportunità. Opportunità non è un caso appunto che abbiamo scelto di coinvolgere dei rappresentanti in Italia particolarmente noti in questo contesto per affrontare le tematiche, non solo lo scenario, ma anche che significa lavorare in un contesto come questo. E poi no, anche ispirati da ciò che diceva Pier riguardo all'importanza dello storytelling, e sapendo quando è importante lo storytelling, che qualcuno incomincia a chiamare anche lo storytelling, quindi lo storytelling sportivo è un elemento fondamentale, perché bisogna saper raccontare, ma raccontare in tutte le sue declinazioni, dalla declinazione più televisiva a quella appunto digitale, perché non affrontare come è possibile raccontare storie, d'altra parte noi che ci occupiamo di neuroscienze sappiamo perfettamente che la parte più antica del cervello ama le storie, tra parentesi in uno dei moduli affronteremo il neuromarketing dello sport, cioè utilizzeremo, valorizzeremo quello che è il laboratorio, un centro di ricerca di neuromarketing, uno dei più importanti d'Italia, che ho l'onore di dirigere, che ci permette di affrontare, anche dal punto di vista neuroscientifico, le soluzioni appunto di comunicazione che vengono proposte all'interno del master, o dalle aziende che si occupano appunto di questa tematica. E qui le aziende, e lascierei la parola a Enrico e a Monica per dire due parole appunto sulle aziende. Sì, inviterei Monica a raccontarci un pochettino le aziende, soprattutto poi cosa importante per il master è appunto il prosieguo nel mondo del placement con gli stage, quindi affrontare il mondo del lavoro. Mi piace raccontare anche il fatto che nonostante il momento siamo a tre quarti degli studenti che hanno finito, terminato il master a marzo, sono già in stage. Monica, se vuoi raccontarci un po' tu quali sono le aziende coinvolte, particolarmente l'anno scorso, ma insomma si leggono anche da sole, però prego. Sì, allora brevemente, appunto come vedete dalla slide, le aziende sono tante, fanno capo a diversi tipi di identità, abbiamo dalla parte più istituzionale, quindi federazioni, al CONI, a tutti quelli anche che sono le associazioni sportive, ad aziende invece più dedicate al marketing e alla comunicazione, quindi piccole agenzie di comunicazione o media agenzie di comunicazione, che chiaramente collaborano con tutto il mondo sportivo su vari fronti, e invece mondo anche ovviamente di imprenditori, di freelance, che fanno proprio da intermediario tra quello che è il mondo aziendale e quelle che sono poi le richieste del mercato. effettivamente da un'analisi di scenario rispetto anche agli anni passati, siamo molto contenti di condividere che tante esperienze che già dalla prima edizione sono iniziate come degli stage curriculari e quindi dei temporanei momenti di formazione, poi hanno avuto la fortuna di proseguire, quindi questo ci dà sicuramente una fiducia rispetto a quello che è il mercato del lavoro passato, ma anche quello futuro, come diceva giustamente Enrico, confermiamo insomma anche la propositività del settore lavorativo in questo momento, abbiamo appunto più di metà della classe che ha già potuto attivare degli stage e devo dire appunto anche con la buona notizia che il mercato del lavoro si pone in una maniera molto elastica e collaborativa nei confronti di quelle che sono le esperienze. Come potete immaginarvi ovviamente in una situazione come questa in cui ci sono difficoltà nel lavorare full time in presenza, effettivamente abbiamo ricevuto tantissime proposte che prevedono proprio la possibilità di essere comunque seguiti ma tramite anche un processo proprio di smart working con dei piccoli chiaramente momenti anche di presenza in cui ovviamente si fanno delle riunioni di aggiornamento, quindi sicuramente il mercato sta cambiando e anche noi ci dovremmo proporre cambiando insieme al settore, però le proposte sono tante e soprattutto nel mercato sportivo i margini di crescita e i margini in cui c'è effettivamente una possibilità di proporsi come giovani professionisti ci sono a tutti gli effetti, direi che appunto Marta ne è un esempio e la ringrazio anch'io nuovamente per essersi fatta coinvolgere, sicuramente poi lei è un bellissimo esempio ricordo appunto di quello che è stato il percorso della terza edizione. Non so Enrico se vuoi aggiungere anche tu qualcosa? No, che come accennava Vincenzo e poi Pier tra l'altro fa parte anche del mondo degli esports a modo suo perché Pier ti sentivo ieri in radio, ieri o l'altro ieri stavi registrando il tuo audio famoso? Ieri, ieri, stavo facendo FIFA 22, sì sì no no ma certo ma anche lì guarda c'è un, lo vedo anche proprio direttamente dalla mia esperienza, c'è una crescita e forse Marta ce lo potrà confermare, c'è un'attenzione da parte sia della federazione che della Lega di Serie A, cioè ormai vedremo anche l'altro giorno banalmente sull'album delle figurine Panini, storico, romantico, che ci sono gli gamers, cioè ci sono ormai, sono tre di veri e propri, sono tre di veri e propri, le società di calcio cominciano a avere la loro sezione dedicata agli esports e insomma a FIFA ma anche a PES, lo dico sinceramente e soprattutto a FIFA ma anche a PES si gioca, si gioca con regolarità, c'è la nazionale italiana che ha vinto gli europei di PES, adesso domenica commenterò una cosa per quanto riguarda FIFA legata alla federazione, martedì commenterò una cosa legata invece alla Lega di Serie A che appunto sono le finali del campionato di Serie A di FIFA, quindi insomma stiamo parlando veramente di un mondo che sta diventando, devo essere sincero, io non è che ci credessi molto, al di là del fatto che giocare è divertentissimo e insomma non ci sono grandi dubbi su questo, però ero abbastanza scettico sinceramente sul fatto che ci potesse essere uno sviluppo capace di rendere gli games e gli esports qualcosa di quasi assimilabile allo sport vero praticato, siamo ancora distanti ma la crescita e soprattutto l'esempio che arriva da altri paesi lascia pensare che si possa andare tranquillamente in quella direzione. Sì, mi ha molto colpito, devo dire mi ha girato un video Michele Ciccarese, Lega Serie A, adesso pensate che durante la trasmissione delle partite hanno una camera che fa l'effetto PlayStation o l'effetto PES, non so se ne vi è sentito parlare Pier, c'è proprio questa telecamera, sembra di vedere una partita di FIFA o di PES, comunque nel nostro gruppo di lavoro c'è anche appunto Stefano Cozzi che fa parte di PGE Sports, sono coloro che organizzano la Milano Games Week per intenderci, anche loro fanno tornei e insomma è cosa di due giorni fa, due nostri studenti fanno parte anche loro di questo gruppo di lavoro perché sono stati presi stage proprio in questi giorni. Il lavoro di Monica è costante e stiamo raggiungendo come dire, l'obiettivo di chiudere nei tempi previsti i nostri stage. Che cosa manca Vincenzo dalla slide? Sicuramente l'ultima parte relativa a alcune considerazioni di funzionamento del master, nel senso che noi partiamo sempre con un'azione di team building, ovviamente abbiamo anche degli esperti all'interno del nostro master che si occupano di coaching, in maniera tale da poter preparare le persone e entrare nel mondo del lavoro, avendo appunto un supporto anche tramite dei colloqui individuali che poi servono anche a definire qual è la migliore applicazione professionale, il proprio posizionamento professionale, quindi le attività di placement, che facciamo anche durante il periodo di master, quindi non l'ultimo giorno, in maniera tale da poter comprendere se le persone sono più abili per un tipo di lavoro piuttosto che un altro. Ripeto, da una parte c'è sempre il principio di piacere, ma dall'altra c'è sempre il principio di realtà che ci permette di guidare meglio le persone in base alle loro competenze. E poi qualche esperienza, ecco su questo chiederei appunto a Enrico e a Monica di dire due parole, sono appunto esperienze con progetti, con aziendali molto particolari, dal Lamborghini, qualcosa aveva già detto Enrico sul Milan, lascio a voi la parola. Sì, diciamo qui ovviamente l'auspicio è quello di tornare quanto prima a svolgere queste attività anche fuori dalle mura dell'università, stiamo progettando le nuove esperienze formative in stadi tour, sicuramente facciamo tante attività anche a Milano, perché Milano comunque in quel senso è una sede virtuosa, visitiamo di solito le federazioni, come la federazione della ginnastica italiana non lo dimentichiamo, l'autodromo di Monza abbiamo fatto anche con loro un bellissimo progetto di marketing per vendere tra virgolette diciamo l'opportunità dello spazio e dell'autodromo non soltanto, l'autodromo non può vivere chiaramente soltanto durante il Gran Premio di Monza di Formula 1 ma deve vivere 365 giorni all'anno, il problema dell'autodromo è stato, del direttore dell'autodromo è stato proposto ai nostri studenti i quali hanno lavorato proprio su un progetto di calendarizzazione di eventi sportivi per tutto l'anno per l'autodromo di Monza, Lamborghini siamo andati a visitare la casa di produzione, abbiamo visitato la casa di produzione di Ducati dove anche lì mi piace ricordare che con Monica abbiamo sempre qualche nostro studente che partecipa poi come stegista e poi il nostro auspicio chiaramente che venga inserito nell'organico, devo dire che gli stadi tour sono la parte che poi rende anche un pochettino più esperienziale il vissuto di questo master ma devo dire che anche nell'ultima edizione, quella vissuta più in digitale, la sensazione di vivere comunque giorno per giorno le esperienze con i manager e con le aziende non ha creato grossissimi problemi quindi l'università è attenta a queste dimensioni, chiaramente noi vorremmo rientrare a fare i nostri stadi tour non appena è possibile e quindi l'auspicio è quello Cosa ci manca? Gli atleti professionisti coinvolti, Daniele Massaro viene sempre a fare la chiusura raccontandoci un po' come è stata l'esperienza di alzare la grande Coppa Campioni per due volte insomma ci sono personaggi come Demetrio Albertini, Carlotta Ferlito che tra l'altro è una studentessa Yulm viene a raccontarci il suo ruolo di atleta, di atleta di comunicazione ormai perché comunque ha una pagina Instagram molto seguita Pier è il coordinatore insieme al sottoscritto e a Monica di questo master Montali che sta organizzando appunto la Red S Cup insomma i personaggi sono molteplici non aspettatevi un master legato al mondo del calcio e basta è un master davvero trasversale che apre davvero tante opportunità ma soprattutto crea curiosità anche agli studenti su tantissimi mondi quindi noi tocchiamo tutti i mondi dal tennis quest'anno sarà un buon anno per il mondo del tennis visto che abbiamo un atleta che sta diventando tra i migliori in assoluto come Sinner noi andiamo a cercare sempre non solo di mantenere di conservare le nostre attività migliori ma stiamo sempre molto attenti alle novità Sì aggiungo solo diciamo che in primis quello che è anche un po' il nostro obiettivo è proprio l'idea di porci come prima risorsa a supporto di quello che è il mercato sportivo quindi non focalizzandoci solo esclusivamente su uno sport per quanto chiaramente il calcio in Italia sia assolutamente una priorità e un business fortissimo però cerchiamo proprio anche grazie al lavoro dei progetti fatti in classe con voi ragazzi di andare ad arricchire quelli che sono invece sport che magari a livello di marketing e comunicazione sono un po' più indietro per svariati motivi e quindi cercare di avere un ruolo proprio di intermediario e di supporter di quello che è il mercato a 360 gradi Ecco qui chiedo e qui concludiamo Piero un parere sull'idea che abbiamo avuto di coinvolgere Marco Mazzini e raccontarci un po' una realtà come quella americana o quella giapponese o quella inglese da un punto di vista proprio di istituzione sportiva fare un esempio come l'NBA a confronto con la nostra pallacanestro piuttosto che proprio come funziona anche il mondo universitario e sportivo internazionale rispetto al nostro secondo me è un bel confronto che può aiutare anche i nostri studenti in un approccio magari un po' più globale Sì assolutamente proprio perché abbiamo un metodo induttivo quindi partiamo dalle esperienze e facciamo search and reapply quindi andare a cercare esempi e poi riapplicarli sintonizzandoli con quella che è la sensibilità e il costume del nostro paese ieri sera per dirti mi ha chiamato una persona e mi ha proposto un'azione insieme di una start up che si lega proprio alla fruizione degli eventi sportivi nelle pause e parlavamo insomma il suo modello è un modello americano sapete che in America c'è per esempio in ogni time out di una partita di pallacanestro c'è sempre un momento di svago, di divertimento con quelli che ti sparano le magliette con quelli che ti fanno i quiz, il vincitore viene a tirare i tiri liberi sul parquet con tutta una serie di momenti di entertainment ovviamente ogni realtà vive le sue peculiarità nel senso che lo sport vive anche molto, moltissimo di tradizione di conservazione delle tradizioni quindi in qualche caso anche di aspetti più di conservazione però se guardiamo come lo sport si è modificato negli ultimi anni come ha cercato in tutta una serie di modi qualche volta addirittura sulle regole ma più in generale sulla fruizione dell'evento sportivo ci rendiamo conto che comunque c'è uno sforzo da parte di tutti i dirigenti del mondo dello sport e di diversi sport per rendere queste competizioni sempre più accattivanti e sempre più in linea con quella che è la tendenza e desiderata degli appassionati quindi assolutamente sì che questo aspetto di internazionalità nell'andare a cogliere delle opportunità in giro per il mondo delle curiosità e dei modelli che possono essere riapplicati è fondamentale rientra, ripeto, un approccio induttivo quindi l'idea di partire dalle esperienze andare a vedere se c'è qualcosa di interessante e poi eventualmente riapplicarlo in maniera tailor made quindi sartoriale su quella che è la realtà invece del nostro paese grazie bene, abbiamo concluso se ci sono domande chiedo a Mirko la chat è aperta chiunque volesse porre delle domande può farlo adesso e vediamo di dare delle risposte diciamo che è stato molto bello è stato molto bello è stata certa qualità ecco, scoglierei magari l'occasione per dare due indicazioni a priori intanto che magari qualcuno poi ci chiede rispetto a quello che sono le dinamiche di prescrizione matricolazione e anche un po' delle tempistiche visto che appunto stiamo presentando il master con largo anticipo se appunto Mirko vuoi dare tu qualche indicazione a livello più amministrativo diciamo che le prescrizioni sono già aperte quindi si può già inoltrare la domanda basta visitare la pagina del master per quanto riguarda il sito yul.it inoltrare la domanda per via telematica ovviamente c'è una tassa amministrativa della cifra di 100 euro dover versare e dei documenti da inviare alla segreteria vagliati questi documenti il coordinamento ovviamente dottoressa Mazzola e dottor Cecchetti vi contatteranno vi convocheranno per un colloquio motivazionale dove sonderanno appunto la vostra motivazione a far parte della famiglia del master la vostra volontà di impegnarvi in un percorso che come avete capito è abbastanza impegnativo, sfidante, bello e che può portarvi in alto e successivamente vi sarete, se ammessi, sarete poi contattati dalla segreteria studenti per procedere all'immatricolazione quest'anno purtroppo i posti sono limitati dovuta appunto all'emergenza covid quindi non vogliamo mettervi fretta perché come diceva l'ottoressa Mazzola lo stiamo presentando con largo anticipo però è il caso già di cominciare a pensare, fare il colloquio entrare un po' più nello specifico di quelle che sono le dinamiche del master per poi arrivare alla decisione finale e formare la classe ovviamente è una classe tra virgolette privilegiata perché avrà accesso a tutti i contenuti a tutte le opportunità che sono state qui presentate sono arrivate già due domande una è già, dice è possibile rivedere il webinar? sì già non c'è nessun problema sarà poi messo su youtube e chi ha partecipato riceverà il link anche come feedback di ringraziamento quindi sì è possibile rivedere il webinar sui canali dell'università dice è previsto un altro studente è previsto una prova di ammissione per il master io ho parlato di colloquio poi se vogliamo entrare nello specifico del colloquio lascio a Monica e al dottor Cecchetti la possibilità di spiegare meglio come si tratta come si svolgerà il colloquio di selezione alla prova di selezione hai detto bene tu Mirko nel senso è un colloquio della durata di 30-40 minuti per capire un pochettino le attitudini dello studente noi verifichiamo sempre un pochettino le competenze in marketing e comunicazione e nell'eventualità in cui verifichiamo la come dire una certa passione per l'argomento e magari qualche piccola lacuna forniamo anche dei testi consigliati per arrivare preparati a frequentare questo master tutto qua c'è un'altra domanda sullo stagio ci chiedono se è obbligatorio ed è retribuito eventualmente sulla retribuzione poi lo dico io però sullo stagio obbligatorio e quanto dura lo stagio è assolutamente previsto per il momento mi piace ricordare che con Monica ma soprattutto anche con il professor Russo ci occupiamo anche di altri master nessuno studente che ha frequentato i nostri master è rimasto senza un percorso di stage di tirocinio per quanto riguarda il discorso economico mi sento anche io di dire dipende tanto dall'azienda che vi coinvolge sappiate che il mercato del lavoro è fatto in un modo tale per cui le grandi aziende non mi riferisco al mondo sportivo però certe grandi aziende vivono lo stage già come un investimento e quindi non retribuiscono nella prima fase ma perché poi hanno magari un'attitudine ad assumere però esistono stage che non sono retribuiti si aggiungo che lo stage è di tipo curriculare scusami Mirko no no provo al volo che la mia esperienza insomma la mia esperienza con gli studenti è che poi alla fine la cosa più difficile sia proprio questo accesso al mondo del lavoro nel senso che ci sono fortunatamente tante storie di successo di ragazzi che hanno cominciato magari un'azienda che magari neanche gli piaceva tanto non gli ispirava tanto magari erano iniziati in un settore che non gli faceva impazzire e poi invece attraverso quel tipo di esperienza si sono fatti conoscere quindi insomma io non credo che esistano oggi perlomeno delle realtà che conosciamo e con le quali collaboriamo aziende che abbiano bisogno di gente che faccia tanto per capirci le fotocopie e poi dobbiamo andare via io credo che realmente oggi se si trovi delle persone valide è prima di tutto una buona notizia per l'azienda quindi sinceramente la mia esperienza in sport sono un ottimista di mio mentre credo che sia molto difficile riuscire ad avere accesso alle aziende alle opportunità e quindi agli stage in generale da questo punto di vista io credo che il master sia molto importante per questa proprio perché abbiamo una percentuale praticamente pari al 100% di studenti che sono andati a fare lo stage e questo è lo studio più importante farsi conoscere poi chiaramente sta alla qualità della persona però una volta che tu hai la possibilità un po' come per i calciatori una volta che tu hai la possibilità di metterti in luce e di scendere in campo poi aspetta a te però le aziende sinceramente le aziende hanno interesse per prime a trovare figure, professionalità mi ricollego al volo anche al ragionamento che si faceva prima perché ci siamo passati nel master dell'anno scorso e quest'anno l'abbiamo vissuto in maniera piena anche questo aspetto drammatico della pandemia e del lockdown che sicuramente ha creato una riduzione di fatturati ha creato sicuramente dei problemi ma dal punto di vista strettamente accademico in realtà ci rendiamo conto che è quasi un'opportunità nel senso che ragionare purtroppo con la testa di oggi con i problemi di oggi con la necessità di trovare delle soluzioni ai problemi di oggi è un plus per i ragazzi il mondo è purtroppo e sottolineo mille volte purtroppo con la P maiuscola ha cambiato negli ultimi due anni e quindi chi oggi si approccia al mondo con la cultura di oggi con il riso audio di oggi con la fantasia di oggi con i problemi di oggi ha paradossalmente un vantaggio rispetto a chi qualche anno fa insomma era abituato a un mondo fortunatamente più sereno e senza questo tipo di problematiche ci sono altre domande? Mirko scusa ti lascerei un secondo proseguire però rispetto al tuo intervento che stavi per fare prima di Pierluigi perché per correttezza di informazioni è velocissima ed amministrativa stavamo semplicemente dicendo che lo stagio è parte integrante del curriculum del master e anche esso contribuisce all'acquisizione dei crediti formativi appunto erogati dal master quindi è un'attività vera e propria formativa ed essendo uno stagio curriculare non è previsto che sia retribuito quindi se trovate un'azienda che viene a uno stagio e anche la retribuzione quindi è un plus non è un dovere da parte dell'azienda andiamo avanti con le domande quanti sono i posti disponibili? Trattandoci di un master universitario dove la risposta sono 20 per quest'anno salvo che la pandemia non finisca prima e quindi possiamo riaprire poi c'è De Angelis Simone buongiorno sono Diego De Angelis e sono all'erando in editoria e giornalismo presso l'università degli studi di Verona volevo sapere se il master e se il campo del giornalismo sportivo è inerente al master chiedo perché ho letto anche il nome di Sky Sport tra le aziende sicuramente non è un master per giornalisti sportivi però i contenuti che vengono trattati durante appunto il percorso sono assolutamente coerenti con quel tipo di professione sapete perfettamente che per entrare nel diciamo per il percorso di giornalista occorre appunto un percorso ben definito con l'ordine dei giornalisti per cui possiamo dire che c'è la coerenza in termini di contenuto devo dire che molti dei nostri studenti poi sono finiti a fare questo tipo di attività proseguendo appunto con un specifico approfondimento con dei corsi ben precisi dedicati appunto ai riconosciuti all'ordine dei giornalisti ma avendo alle spalle dei contenuti delle competenze che hanno a che fare appunto con quel tipo di pratica per cui di pratica professionale però non possiamo dire che questo è un master per giornalisti sportivi ed è un percorso riconosciuto dall'ordine dei giornalisti ma i contenuti sono assolutamente coerenti per questo tipo di attività sì c'è una componente che è quella che si lega agli uffici stampa e quindi alla comunicazione che è assolutamente parte del master ma io lo dico a questo ragazzo non perché io non abbia piacere lo ribadisco il giornalismo sportivo è la passione della mia vita quindi figuriamoci se non capisco la passione che tanti ragazzi hanno e la voglia di fare questo mestiere però io credo che lavorare nella comunicazione dello sport oggi non sia soltanto fare il telecronista fare il conduttore televisivo fare l'opinionista o fare il giornalista di carta stampata che scrive le pagelle di una partita di calcio oggi esiste questo approccio e non possiamo escludere insomma ci sono qui io e ogni tanto mi capita di fare delle lezioni parlando appunto del modo di raccontare lo sport Giorgio Terruzzo e tutto il resto ma esiste un aspetto secondo me molto più pratico più concreto con molti più sbocchi professionali che è la necessità degli atleti delle società di calcio delle società sportive delle federazioni di tutti gli stakeholder di comunicare della maniera corretta quindi si può essere giornalisti sportivi e professionisti della comunicazione senza essere telegonista senza essere giornalista della gazzetta o del Corriere dello Sport ma magari facendo il social media manager di un campione magari facendo parte dell'ufficio stampa della Lega di Serie A piuttosto che della Feder Calcio o della Ryder Cup o dell'Inter e quindi io invito i ragazzi che hanno la passione per il giornalismo sportivo che è la passione che ho anch'io di considerare che esiste anche questo e che onestamente questo è in linea di massima molto molto interessante molto promettente con degli sbocchi professionali molto interessanti poi è ovvio non sono ipocrita è ovvio che essere caressa o essere il amico o non lo so condò o forse anche il sottoscritto possa essere per molti indubbiamente uno scenario un obiettivo ma questo è indiscutibile è assolutamente indiscutibile e lo capisco perfettamente però occhio perché c'è molto altro e può essere molto interessante soddisfacente dal punto di vista professionale anche quel tipo di esperienza e questa qui della comunicazione degli addetti ai lavori è assolutamente una delle componenti importanti di questo vanno ci sono le ultime due domande poi chiedo che potremmo chiudere allora una dice sono previste borse di studio o divisioni per fasce di reddito e l'altra dice sono di Giada sono una laureata magistrale di scienze motorie ma scrivo articoli scusate se uno è laureato magistrale di scienze motorie ma scrive articoli come frelensi in internet per un sito sportivo può essere una buona base direi proprio di sì mettiamo insieme delle competenze che hanno a che fare con le scienze motorie e dall'altra ha già un minimo di esperienza nel campo della comunicazione online per cui sicuramente questo è un profilo di grande interesse quindi anche il curriculum si arricchisce poi con il nostro master per poter essere posizionato in altri contesti mi sembra una buonissima base altro che e poi quella sulle borse di studio e la divisione di fasce di reddito allora sulle borse di studio lascio la parola a voi sulla divisione di fasce di reddito intervengo io no perché si tratta di un master universitario e quindi non c'è la divisione di fasce di reddito o la di isu o quant'altro sì per quanto riguarda borse di studio allora noi non abbiamo previsto può capitare come è capitato in altri master in altre situazioni che abbiamo delle premierità da parte delle aziende a volte anche in danaro oltre che esperienziali su specifici project work però ovviamente questo dipende dalle condizioni dipende appunto dalla situazione quindi non si può in maniera preliminare segnalare appunto questa 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 opportunità è capitata in passato che alcune aziende hanno supportato l'attività di project work con delle premierità anche economiche che è diventato appunto un modo per supportare chi meritava di più ma non possiamo considerare questo come se fosse una borsa di studio perfetto non ci sono altre domande per cui possiamo chiuderla qui ringrazio tutti i partecipanti che volesse rivedere il webinar riceverà e si è scritto riceverà la mail di si è frizzato Mirko abbiamo perso Mirko riceverà la mail va bene ha detto riceverà la mail Mirko ci è frizzato ah non so dove sono arrivato sto dicendo l'ultima parola a voi per il saluto e poi chiudiamo riceverà la mail diceva Pierre che è stata perfetta come riceverà la mail di follow up con il link per rivedere il webinar oppure lo rivedrà sul canale YouTube o i nostri canali social e poi la parola l'ultima parola a voi per salutare i partecipanti beh ringraziamo tutti diceva giustamente il professore che la qualifica della signora che chiedeva se le sue come dire i suoi studi erano erano adatti sappiate che comunque abbiamo avuto iscritti da dal mondo della filosofia dalla letteratura da storia da chiaramente ci sono c'è una buona percentuale di ulmini come vengono chiamati ma il colloquio di selezione con me e Monica ci ci dà l'idea se siete pronti o meno ad affrontare questo questo percorso formativo da questo punto di vista mi sento di poter dire per esperienza personale io sono lavorato in economia ho iniziato la mia carriera in Procter & Gamble quindi mi occupavo di marketing in una multinazionale questo è un tipo di mondo appunto comunicazione marketing dello sport in cui c'è ampio spazio per per percorsi di tipo anche molto diverso mi viene in mente la solita frase di Murigno chi sa solo di calcio non sa niente di calcio è un po' questo cioè chi ha un insieme un background di esperienze di un certo tipo insomma non c'è niente di così specifico di così specialistico ti può essere un ottimo comunicatore nel mondo dello sport un ottimo marketing dello sport un ottimo dirigente sportivo con una formazione che può essere una formazione umanistica una formazione scientifica quello che conta secondo me appunto è il talento essere smart e avere un'apertura mentale nei confronti di tutta una serie di stimoli continui che questo mondo dà ecco su quello bisogna sicuramente essere veloci bisogna essere veloci bisogna essere smart ma non è che se sei se hai studiato storie dell'arte piuttosto che sei studiato odontoiatria ecco non è un problema quello conta molto la testa conta molto l'attitudine conta molto la passione e questo è bene grazie a tutti grazie grazie ancora anche a Marta Poletti grazie a tutti grazie a voi ciao a tutti ciao ciao grazie a tutti grazie a tutti